non ci abbiamo ospiti importante non ci fa importanti non ci facciamo riconoscere signore e signori benvenuti ecco già va meglio benvenuti e buonasera gran gala a pulia musical quarta edizione c'è la fame di due volte Stefano Dorazio qui con noi sul palco allora Enzo tu lo sai che questo premio noi lo diamo più che all'artista alla persona si è concluso ieri sera a Palagianello con un grande successo il percorso intrapreso dai ragazzi di Apulia Musical nove giorni di stage intensivo sotto la supervisione di Stefano Dorazio dove i ragazzi hanno recitato, cantato e ballato per poi concludere il percorso ieri sera con un grande spettacolo una manifestazione arrivata ormai alla sua quarta edizione ospite d'eccezione con il premio alla carriera Enzo Iacchetti che ha ricevuto da Apulia Musical un premio speciale per il suo impegno nel teatro musicale sia come interprete che come produttore inoltre la serata è stata aiutata da Giorgio Camandona talentuoso performer e protagonista della nuova edizione del musical Peter Pan e da Francesca Taverni e Nicola Tenerani apprezzati interpreti del teatro musicale con all'attivo molti musical sia in Italia che all'estero conduttori della serata nonché insegnanti Giancarlo Capito e Silvia Di Stefano accompagnati a loro volta da altri professionisti nel campo dello spettacolo tra cui Manuel Frattini, Lena Biolcati, Stefano Bontempi e Andrea Verzicco Sì, agli anziani di solito No, non c'è anziani Ma Charlie Chaplin l'ha preso a 81 anni quindi io ce n'ho ancora 20 circa prima di arrivare al secondo premio alla carriera No, sono felice mi hanno premiato anche per i musical che ho fatto e questo è stato una grande soddisfazione perché nessuno, quasi nessuno si ricorda di me che faccio teatro si ricorda solo della televisione e quando qualcuno come loro addirittura fanno filmati sui miei lavori in teatro mi commuove questa cosa perché non è mai successa per cui mi sono commosso Teatro? TV? Cosa preferisci? Sono due discipline diverse la televisione mi piace farla in un certo modo ecco, mi piace fare striscia mi piace anche fare qualche comparsata da Maria vestito da donna perché no però il teatro è la mia passione fin da bambino inutile negarlo poi speravo di fare questo lavoro da quando ero piccolo ci sono riuscito sono fortunato ma ho anche picchiato tante testate come tutti sì allora te lo chiedo anche io cosa consiglieresti ai giovani che vogliono fare il tuo lavoro? prudenza, volontà prudenza perché non è detto che sia un mestiere che poi alla fine va in porto però se sei consapevole del tuo talento con la volontà un po' di cocciutaggine voglia di studiare sempre umiltà e poi guardarsi bene dentro per sapere qual è la tua possibilità migliore come hai trovato questi ragazzi? ragazzi sono bravissimi mi hanno fatto in otto giorni una cosa che per i professionisti ci vuole ci vuole almeno il doppio loro ci hanno messo avranno lavorato 12 ore al giorno ma molti di loro sono già molto avanti molto avanti e il mattina l'aereo dove lo prendi? a Bari o a Brindisi? a Brindisi ma spero che mi portino lì sì sì il problema è che alle 5 e mezza mi devo alzare ci fai un saluto agli amici di Just TV Just TV è la mia televisione preferita io una volta ero in Inghilterra e sono uscito da un albergo perché non c'era l'antenna che prendeva Just TV sono andato in un altro che ce l'aveva e ho visto Just TV da Londra per noi è stato un'onore e io ti posso dire che sei più bello dal vivo bacetto grazie più bello dal vivo che dal morto vedi? nooo grazie ciao Stefano Dorazio batterista ormai dei putti conoscono tutti ancora una volta per 4 anni giusto? sì padrino di Apulia Musical Festival come è andata quest'anno? ma io mi emoziono sempre di più come raccontavo sul palco perché ogni volta scopro dei talenti incredibili soprattutto una tenacia una voglia anche di divertirsi perché non tutti coloro che faranno questi corsi poi nella vita decideranno di fare questo mestiere ma sicuramente è un buon momento per aggregarsi per scoprire nuove amicizie per capire che la vita è fatta veramente di collaborazione ed è un bel banco di prova per noi è stato un onore ci fai un saluto agli amici di Just TV come l'anno scorso? sicuramente sì un saluto a tutti quanti e un arrivederci al prossimo anno ciao bacetto siamo con la bellissima e bravissima Silvia di Stefano Silvia è appena terminato Apulia Musical come è andata? mamma mia io sono devastata cioè alla fine non riuscivo ad arrivare in camerino perché i ragazzi con le lacrime mi abbracciò io piangavo apprezzo a loro quindi è andata benissimo anche se magari ci sono stati come sempre degli errori tecnici delle cose ho detto non è quello l'importante voi su questo palco stasera vi siete divertiti avete messo in scena quello che avete imparato chi più chi meno ci sarà tempo se volete per imparare a cantare a badare a recitare per quello c'è tempo non è questo il momento è il luogo qui vi siete sfogati proprio si sono aperti in otto giorni ho conosciuto 44 persone straordinarie perché dentro alla fine siamo tutti straordinarie che bisogna andare a cercare un pochino più in fondo allora questa sera sul palco Enzo Iacchetti Stefano Dorazio due maestri beh sicuramente Iacchetti poi veramente quando è salito sul palco con gli occhi pieni di lacrime e non riusciva a fermarsi è stata ma io pensavo si scherzasse anch'io pensavo all'inizio che si scherzasse poi mi sono girata e l'ho visto che continuava a piangere non si fermava cioè è stata un'emozione io ho detto ah che è successo smontano smontano non ho detto come faccio ad andare avanti cioè se è vero che piangessero assolutamente vero perché comunque cioè lui lo conoscono come conduttore quindi il fatto di essere premiato per dei musical e sentirsi apprezzato per il lavoro che ha fatto come diciamo performer ma alla fine è attore cantante eccetera eccetera e sentire come lo sei tu beh come lo siamo tutti come lo sono stati anche tutti i ragazzi stasera e quindi poi ha sentito i pezzi cantati insomma dei suoi spettacoli abbiamo fatto un pezzo da The Producers un pezzo da La Casio Fall e un pezzo di questo musical che ha diretto lui ha scritto e diretto lui quindi su quello è partita sicuramente l'emozione perché non se l'aspettava allora io ti faccio in bocca al lupo e mi fai un saluto agli amici di Just TV? Just TV? TV o TV? TV, TV come vuoi? perché a Roma è TV con la doppia V se chi dice Just TV? Just TV tu come dici? io Just TV Just TV allora Just TV amici di Just TV ciao ci vediamo l'anno prossimo eh ciao ciao è andata molto bene è andata molto bene è la prima volta che eravamo in questo anfiteatro un po' una una puglia dei record questo perché avevamo ben 44 ragazzi tantissimi accompagnatori per la prima volta un palco un palco molto particolare coperto quindi siamo siamo contenti è stato faticoso ma siamo come al solito molto contenti quest'anno Enzo Iacchetti come hospital? Enzo Iacchetti che ci ha veramente meravigliato perché io credevo quando ho cominciato a piangere credevo stesse facendo una gag anche io onestamente poi invece l'ho guardato in viso aveva veramente gli occhi di lati mi era commosso io non sapevo veramente che dire ma mi ha fatto tantissimo piacere a ottobre ritorni a fare il tuo lavoro nei più grandi teatri io domani mattina ritorno a fare il mio lavoro no no io dicevo con Sister Act con Sister Act riprendiamo da da novembre e faremo tournée in tutta Italia cominceremo dal tratto degli Arcimboldi di Milano torneremo a Roma veremo finalmente a Bari al teatro team spero di vedervi mi raccomando seguiteci ok ti facciamo un bocca a Luca a lupo e fai un saluto agli amici di Just TV un saluto a tutti gli amici di Just TV ciao seguite il teatro venite a vederci ciao è bellissimo il telegatto fa schifo in confronto veramente è bellissimo sapete mi hanno rubato quattro telegatti pensando che fossero d'oro davvero invece valgono 25 euro certo e sotto e piombo e sotto e piombo qui su questo d'oro non si possono sbagliare questo è bello questo è alluminio pitturato no è un premio in 3D è fatto a posta a parte gli scherzi è bellissimo è bellissimo dove dobbiamo andare domani? a Bari io ho paura che mi porti alla mezzia terme pensa un po' grazie a tutti